Don Mazzi, buongiorno. Ciao, 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 stamattina un pensiero impegnativo. Sì, sì. Ed è bello, bello, cioè ci impegna. Eccolo qua, dobbiamo imparare ad interpretare anche il rovescio delle cose. Ok, lo ripetiamo, dobbiamo imparare anche a interpretare. Dobbiamo imparare anche il rovescio delle cose. Bene, grazie Don, buona giornata. Ciao, 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 ciao.